Questo è un esempio di installazione di condotto sbarre LV Plus tipo B, in cui, a differenza dell'installazione precedente realizzata per il tipo A, abbiamo scelto di effettuare la sospensione dell'elemento rettilineo tramite cavo nell'asola realizzata nella carcassa metallica dell'elemento stesso, anziché utilizzare le staffe di sostegno. Abbiamo invece sospeso un corpo illuminante, alimentato, come vedete, da una spina di derivazione, tramite staffe specifiche per il tipo B. Naturalmente il corpo illuminante è indipendente dalla staffa che si vuole usare. Vorrei sottolineare che tutti gli accessori, a partire dall'alimentazione, per arrivare alle spine, sia da 10 che da 16 che da 32 A, che alla testata di chiusura, montata all'altra estremità del condotto, sono esattamente gli stessi di quelli che abbiamo visto per il tipo A.